Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Cristian Oggi vi dirò come scaricare Silvia senza l'uso del jailbreak e senza craccare il vostro dispositivo Vai con la intro Ciao ragazzi, sono ancora io Incominciamo subito scarichiamo, cioè andiamo su jailbreak vabbè, faccio problemi a fare così jailbreak61.wembley poi andiamo su jailbreak.me home aspettiamo che carica ci porterà in questa pagina andiamo in fondo scusate non carica, ok ancora qualche problemino e ha qualche problemino poi si, ben capito poi andiamo, cioè sicuramente nel vostro dispositivo troverete troverete aggiungi a home in basso al centro troverete tipo un foglio con la freccetta in alto cliccatelo e ci sarà scritto si aprirà una finestra e ci sarà scritto anche aggiungi a home io non lo posso fare perché sto registrando lo schiacciate e mi porterà in una roba dove dovete scrivere nome e basta poi in pratica vedete andate a fare fate quello che volete si sorgetti bla 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 ok ciao ragazzi ci vediamo nel prossimo video commentate iscrivetevi al canale e bye bye